Chi è in difficoltà sbaglia e chi è in difficoltà fa delle liste con persone stravaganti tipo Vannacci che non c'entra nulla con l'autonomia, con la Lega e neanche con la politica e neanche penso con la civiltà e l'educazione e chi è in difficoltà attacca in modo sgangherato il Presidente della Repubblica in un momento e con una motivazione che non esiste. Le parole del salvignano Claudio Borghi che ha chiesto le dimissioni del Presidente Mattarella dopo il suo riferimento alla sovranità europea servono a Flavio Tosi per marcare la differenza proprio con l'aleato leghista, di fatto il vero competitor alle urne per un partito Forza Italia che stavolta sembra scommettere nel sorpasso sul carroccio. Una crescita costante, lenta che è meglio perché piuttosto che avere, come abbiamo visto ultimamente, grandi ascese, grandi discese, meglio un partito che in maniera costante e continua guadagna elettori. Qualunque sarà il risultato finale, Tosi esclude la possibilità di richiedere il rimpasto in giunta regionale. L'obiettivo semmai è nel medio-lungo periodo e si chiama Presidenza, altro che Assessorati. Questo voto è decisivo anche per chi governerà la regione del Veneto, non essendoci perché mai l'ha ammesso anche Salvini il terzo mandato perché non ci sarà e quindi la partita è fra Lega e Fratelli, fra Forza Italia e Fratelli. Ma per arrivare a Venezia si passa per Bruxelles dove a sentire Tosi non si può prescindere dal dialogo con gli altri grandi paesi fondatori. L'Europa uno può piacere, non piacere, è da migliorare, sì è da migliorare ma non è da smontare. C'è chi diceva che bisogna uscire dall'euro, che l'Europa è il nemico, l'Italia se uscisse dall'euro sarebbe finita. Siamo il paese con il rapporto debito-pill insieme alla Grecia il peggiore d'Europa. Altro esempio qua vicino, il Brennero, abbiamo l'Austria e il Tirolo che fermano i tiri italiani. Se ci fosse un'unica Europa non è come se firmassero i tir tra la Lombardia e il Veneto, non può essere e non deve succedere neanche in Europa.